Unave a tutti legionari e preparazioni iscritti, io sono Alessio PCM e vi do il bentornato su Crusader Kings 3 con lo yardire di Sovira, lo straniero in questa terra lontana dalle nostre terre ancestrali nel lontanissimo nord, anche se in realtà abbiamo iniziato il nostro viaggio in Ucraina o Ucraina. In questo momento avevamo il nostro gruppo di saccheggiatori che stava saccheggiando la parte sud del subcontinente indiano e vi dirò ci stava anche andando decisamente bene in quanto stavamo facendo un bel po' di soldi. Possiamo prenderci tra l'altro un altro perk e facciamo 4th level, sì ottimo, l'occupazione in limite che non ci diminuiscono il controllo non è decisamente male come opzione, andare a saccheggiare qua soffriremo un po' di attrito ma non troppo quindi ce lo possiamo permettere. Tra l'altro abbiamo una fazione pericolosa che vuole indipendenza e che si ribellerà in 19 mesi, secondo me facciamo in tempo a finire il nostro viaggio di saccheggio e a tornare indietro. Vi ricordo che lo stiamo facendo per avere un po' di bottino e così facendo avere abbastanza soldi per ampliare il nostro regno. Considerate che vorremmo per l'appunto creare il titolo di regno di Sind ma ci servono 500, al momento non li abbiamo quindi dobbiamo assolutamente ottenerli. Se non basta questo viaggio di saccheggio magari ne faremo un altro, anzi di sicuro non basterà perché possiamo accumularne massimo 300 di oro quindi probabilmente dovremo fare un altro viaggio. Tra l'altro io in realtà potrei aver detto una cazzata perché dopo tutto stiamo facendo dei prigionieri, tra l'altro lei non vale più niente perché se era la moglie del califo o del sultano adesso non è più sultano quindi pace. Vabbè magari se facciamo qualche prigioniero potrebbe potrebbe anche andarci bene, siamo comunque decisamente più vicini alla possibilità di creare un regno e avere finalmente una corte in cui mettere i nostri meravigliosi oggetti, artefatti o quant'altro comunque. Wow, si sono proprio lasciati saccheggiare senza controbattere, mi dispiace quasi per loro, quasi dai, siamo seri. Tra l'altro alcuni commenti nello scorso episodio mi hanno suggerito di mantenere perlomeno la nostra religione, più che altro per tenere un po' la base delle nostre origini e soprattutto per il fatto che purtroppo il fatto della cultura ibrida esiste solamente per le culture con il nuovo DLC, al momento non c'è ancora con le religioni, sennò sarebbe interessante anche da quel punto di vista. C'è da dire una cosa? No, Valdemar, non farmi questo. Hai venti di learning, ti prego, curalo, non può morire qua. Aia, trattamento fallito. No, Valdemar, Valdemar. Malissimo, malissimo. Malissimo, no. No, 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 no. Caro figliolo, caro figliolo, caro figliolo, rivuoi la tua eredità, Aleksandr? Congratulazioni, sei il mio unico erede. Congratulazioni. Porca miseria, eh... Vabbè, avrà solo il tratto bello, peccato, perdiamo il tratto genio, che sarò sincero, non mi dispiaceva. Cosa facciamo? Catturiamo prigionieri o vogliamo più loot? Sì, catturiamo prigionieri. Molto male, molto, molto male, ragazzi. E questo non ci volevo. Riscatto di 100, wow, sì, 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 caspita. Abbiamo catturato un po' di prigionieri di un certo valore, questo è ottimo. Adesso ce ne torneremo a casa pieni di soldi e andiamo a creare il nostro regno, che purtroppo non verrà più ereditato dal nostro carissimo Valdemar. Eh, questo mi dispiace molto, però sono, sapete, i rovesci del destino. Quando si accanisce sappiamo benissimo che è un infame il destino. Vabbè. Cosa succede? Portato all'estremo. Siamo andati a fare un giro in campagna, doveva essere un semplice tour, ma adesso è passato un sacco di tempo da quando abbiamo visto per l'ultima volta una persona in vita e le nostre risorse sono finite. Abbiamo già mangiato i cavalli, la nostra guida ha promesso che avremmo raggiunto la civiltà entro la settimana, ma alcuni riservi sono già al limite, il mio stomaco comincia a fare rumore, a farsi sempre più rumoroso ogni ora che passa. Uh, possiamo diventare cannibali? Però ci mangià, ma tra di noi, oppure ottenere il tratto Starved per cinque anni. Abbiamo una moralità. Non scende a così basse azioni il nostro dire, non è nel personaggio. Oddio. È cinico, quindi avrebbe anche potuto pensare, sai che c'è? Io quasi quasi uno me lo mangio. Potremmo andare a bere un po'? Mhm. Anche se non farebbe molto bene la nostra salute. Possiamo rinchiuderci altrimenti? Oppure cancellare i nostri impegni. Cancelliamo i nostri impegni. Quando andiamo a 40 di stress vedremo di fare qualche festa una volta che torniamo. Tra l'altro ci manca il maresciallo, è morto. Andiamo a prendere magari il ragazzo qua. Sappiamo che è un criminale, è un asatru greco. Incredibile. Al tratto forte, va bene. Non ci vede particolarmente bene, ma ce ne faremo una ragione. Ora che siamo tornati, andiamo a creare... Ups, scusatemi. Finalmente il regno. Ups, ups, crea titolo. Ed eccoci qua ragazzi, il regno di Sinda. Come re adesso avremo nuovi doveri, nuove responsabilità. Dovremmo tenere regolarmente una corte, risolvere le dispute nel reame e lasciare che i nostri cortigiani prendano parte nella nostra routine giornaliera. Il Conte Akon di Mansura ci guarda in modo fisso, quasi come se ci stesse studiando. O forse c'è solo sorpresa nei suoi occhi. Inizia a... Non a sfogliare, a dispiegare un magnifico standard che porta l'emblema della casata Alex Sanderson. Ok. Questo sarà uno dei modi in cui adesso il mondo giudicherà il nostro governo. No, scusate, uno dei modi in cui adesso il mondo giudicherà il nostro governo sarà come adorneremo e ci prenderemo cura della nostra corte. E io mi sono preso la libertà di farle questo dono per l'inizio della vostra avventura reale. Ah, lasciate che vedano il loro re. Possiamo entrare nella corte oppure ci entriamo dopo? No, ci entriamo subito, assolutamente. Ed eccoci qua ragazzi. Assurdo. Siamo in una corte indiana. Però, però, siamo vestiti come non reni, penso. Eh sì. Fantastico, fantastico. Vediamo il trono. C'è da dire che il ragazzo qua si veste sempre come un barbone. Lui è, il nostro dire è nella modalità barbone. Ok, questa qua è la stanza del trono e qua possiamo tenere una corte. Poi abbiamo il grandeore di corte, il court grandeur. Il grandeur di corte mostra quanto rinomata la tua cortesia e sblocca nuovi livelli di grandeur di corte al suo aumentare. Il valore va da 0 a 100 e nel tempo si stabilirà in un certo punto. Questo, naturalmente, è questa media, diciamo, è influenzata da cose come le legacy della tua dinastia e quanto stai spendendo nelle spese di corte e se hai artifatti di corte magnifici. Una porzione del grandore è persa nella successione. Allora, baseline della corte è uno che viene dal court physician e al momento è 25. E questo ci dà un bonus al prestige, un bonus ai vassalli. Va bene. Al momento la nostra è una corte di tipo bellico. Ok. E questo ci dà più 10% all'effettività dei nostri cavalieri a seconda del livello. Nel momento siamo... A che livello siamo? Wow. I bonus sono a livello 1, 4, 7 e 10. Noi al momento siamo a livello 3, quindi abbiamo solo il primo bonus, ma devo dire che non sono male. Se no potremmo fare corte di intrigo, ma vi dirò, siamo una casata di guerrieri, quindi va bene questo. Potremmo cambiare la lingua di corte, ma no, assolutamente. La lingua norrena la terremo come lingua di corte. Uno dei nostri fratelli è morto in battaglia e mi dispiace per lui. Torniamo dentro la corte e finalmente vediamo di fare qualcosa con i nostri artefatti. Allora, qua mettiamo un ornamento della nostra casata, della casata Alexanderson. Perfetto. In realtà ne abbiamo due, a quanto pare molto belli. Questo qua è un masterwork. Eh, vi dirò, mettiamo quello. Decisamente ci dà molto più prestigio. Ed eccolo qui. Poi ne abbiamo un altro che comunque possiamo mettere da questa parte del muro e ci darà comunque altro prestigio. E da questa parte mettiamo quello della casata a Bari, che precedentemente dominava questi territori. Devo dire che ci sta. Abbiamo qualcosa poi da mettere. Sì, questo calice tozzo. Il calice di fuoco. No, è un calice. Un calice cerimoniale di eccellente fattura. Fatto da vorio e con una pietra della luna inserita. Figo. Ah, e c'è anche il motto della famiglia a Bari. Ah, ah, ah. Mai timorosi, sempre audaci. Bel motto. L'avranno urlato mentre combattevano contro noi, ma poi sono morti. Ups, eh vabbè, abbiamo vinto ragazzi. Abbiamo delle claim su degli artefatti? No. Va bene. Sono molto soddisfatto ragazzi della nostra quota. Adesso vediamo un attimo una cosa. Allora, noi al momento guadagniamo 8,2 e spendiamo 2,7. Al momento non spendiamo nulla per quanto riguarda la moda. Potremmo spendere un po' di soldi per la moda adattata e qua i bonus sono tutti nel prestigio. Il cibo. Aumentiamo la perdita di stress e aumentiamo il grandeur. Ok. Cibo blando. Ok. Poi abbiamo gli alloggi. In questo caso gli alloggi permettono agli ospiti di stare più a lungo. è più facile che si uniscano i nostri schemi. Le ispirazioni completate hanno una chance minore di miglioramento e meno il 5% al guadagno di stress. Ok. I servi invece cosa comportano? Possidi reclutamento minori, schemi personali più forti, più resistenza agli schemi ostili. Eh, non male. Non male. Allora, vi dirò. mettiamo cibo modesto poi non lo possiamo cambiare per 12 mesi. Io vi dirò. Iniziamo poco a poco. Così facendo arriviamo a un baseline di 8. Portiamo anche questo più in alto e anche questo. Per quanto riguarda la moda invece quella la lascerei in pace. Ah, fantastico. C'è anche una classifica delle migliori corti. La nostra corte è 21esio. Ok. Così facendo aumentiamo le spese di 0,6 e voilà. Adesso il baseline sarà 20. Vabbè. che potrebbe potrebbe andare peggio nel senso. Però sapete, anche questa qua comunque un po' di prestigio. Che facciamo? Ce ne priviamo? E mettiamo baseline a 24 e così sia. Tra l'altro cosa possiamo fare? Potremmo bere un po' per perdere un po' di stress. Salute. e che ci sentiamo già meglio. Ottimo. Tipo speciale successione no. Amnestia per false conversioni. E perché dovrei farlo? Scusate. Semplicemente quelli che si sono convertiti solo per finta lo rivelano. Ma no. Non ha molto senso. Divinità locale. No. questo no. Andiamo in pellegrinaggio no. Facciamo sparire un po' dei nostri dei nostri portigiani. Ne reclutiamo un po' a caso. Medico ce l'abbiamo. Alziamo una nuova pietra commemorativa per la creazione del regno magari. È giusto. l'ascensione al trono e la facciamo nella capitale naturalmente a Swiss Assolutamente. Ok. Perfetto. 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 Tra l'altro non abbiamo troppi territori. Qua abbiamo un norreno che controlla il territorio. Qua abbiamo un conte e qua abbiamo un altro conte che tra l'altro non si sono convertiti. Richiediamogli la conversione e speriamo che questa volta lo facciano. Ok. Anche questo qua. Ok. Questo qua non posso. Non ho motivo per arrestarlo. Giusto? Esiglierevo col titolo. Uh. Tra l'altro diminuisco l'accettazione culturale. Questo mi dispiace. Mi dispiacerebbe. Non ho ragioni per imprigionarlo. Questa cosa è l'accettazione culturale. da esserlo sincero mi dispiace. Però vogliamo aumentarla per fare questa cultura mista. Uh. Achievement. Ma non ce l'avevo già. Vabbè. Non importa. Va bene. Ok. Il conte qui si converte. Ottima stress. Eh. Mossa. Ah no. Aspetta. Lo devo pagare. Con un wikook. Col cavolo. Col cavolo. Non pagherò per la come dire. Il recupero. Il. Per salvare la tua anima. Ecco. Molto più banalmente. Va bene. Adesso possiamo fare una festa magari. O qualcosa. Per perdere un po' di stress. No. Perché non ho soldi. Ok. Allora teniamo una corte. Tra l'altro qualcuno vuole dirci qualcosa. Ok. Banalmente. Le persone tra la nostra corte continuano ad adularci. E si unisce anche il sindaco Yalmar. Che sorride stupidamente. Si aspetta un segno del nostro favore. Ok. 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 Banalmente noi siamo stufi di tutte queste lodi. E ci stiamo praticamente addormentando. Possiamo dire cosa stavi dicendo? Oppure possiamo perdere grandeur e andarcene. E Folky non ne sarebbe contento. Oppure dire molto bene. Questo qua è divertente. Vabbè. Prendiamoci stress purtroppo. E teniamo una corte quindi. Potremmo guadagnare o perdere opinione, prestigio, ore e più. Potremmo guadagnare grandeur. Potremmo influenzare situazioni in altri reali. E imparare o venire conoscenza di opportunità uniche. Perché no? Ci sediamo sul nostro trono e facciamo accendere alle guardie di aprire le porte alla sala. Una fila di persone entra, alcune si allineano davanti al trono. Mentre altre si allineano ai fianchi. Così da poter anche solo osservare quello che succede. Dopo un po' tutto il movimento della camera è cessato. E tutti i volti si volgono verso di noi. Davanti a noi possiamo contare tre petitioner. Tre che hanno una petizione. Ordinati in una linea e aspettano che li chiamiamo. Ok. Facciamo un gesto al primo. E' uno straniero, non lo riconosciamo. E questo straniero è stato il sott'occhio del maresciallo da quando è entrato. Mio signore, sono venuto per dichiarare che l'agente della contea di Ranicot si rifiuta di pagare le tasse che ci hai richiesto. In tempi passati alla nostra terra e alla nostra gente erano garantiti diritti e privilegi che voi recentemente avete ignorato. Richiediamo che tu ti rivolga a questo problema con giustizia. O ci saranno conseguenze. Ok. Potremmo ordinare di catturarlo. 92% lo... Banalmente il nostro maresciallo lo arresta. E in questo modo diventa più abile a tenere il controllo della folla. Oppure possiamo catturarlo in un'imboscata, cioè spingerlo a finire in un'imboscata. Potremmo ascoltarlo. E diventiamo un masterful negotiator. Wow, buono. E essenzialmente potremmo più facilmente ottenere dei vassalli. Oppure... Possiamo fregarli. Banalmente dirgli che in realtà non ci sono ragioni per dire che non li stiamo tassando giustamente, che quindi devono pagare le loro tasse. Rischiamo una rivolta al 39%. Oppure un po' di soldi e otteniamo anche stewardship. E guadagniamo questo bonus che ci fa ottenere più tasse. Oppure... Beh... Dategli quello che vogliono. Allora, imprigionarlo naturalmente è l'opzione più facile. Io direi che ci proviamo con l'opzione della stewardship. Ed è andata. Bene. Celebrai un'altra cultura. Il nostro vassallo, il Conte Muzaffar, si avvicina. Tapping his foot, like he often does. Fa un gesto con il piede particolare che fa sempre. Mio signore è un dia brillante. E se tenessimo una fiera o anche un festival per la gente comune, in modo che possano dimostrare le differenti culture presenti nel nostro regno, Muzaffar spiega la sua idea più a fondo. Fino a che non realizza che è arrivato quasi al punto di spiegarla anche troppo. Costerà naturalmente, ma sono certo che aiuterà a creare una migliore relazione tra i nostri popoli. Allora, wow. Posso farlo e la citazione culturale aumenta del 20% e la sua opinione è di 40%. Grande festival, ma prendo 60% di stress. Oppure dico sì, un piccolo festival. E parlo 55%. E allora, possiamo celebrare entrambe le culture, oppure solo una piccola fiera a Cindy, oppure mostrare a loro la grandezza dei norreni, oppure dire che non vogliamo spendere risorse. Allora, brutta mossa, prendo anche tanto stress, ma vorrei fare questa opzione, essendo l'altro perché ci porta molto vicini al poter creare una nuova cultura. Va bene, il nostro vassallo si avvicina a fianco un giovane uomo. Mio signore re e la mia conoscenza ogni di Albarg, che è un avventuriero, cerca un'ora di servirti come campione, dagli l'opportunità di provare le sue qualità. Quest'uomo conosce come utilizzare un'asce, non ti deluderà. Ok, possiamo prenderlo, banalmente. Ci vede anche bene. Possiamo prenderlo come guardia del corpo. E vi dirò, è un ottimo combattente. Quindi sì, dai, preso. E abbiamo ottenuto la nostra prima corte. Congratulations. Ma adesso non abbiamo più un soldo. Tra l'altro siamo alle porte della morte. Potremmo morire domani. Sarei molto dispiaciuto da questo. Moriremo proprio appena prima della fine del video. Mental break di nuovo. Se viviamo il fatto è che moriamo. Ragazzi, moriamo d'alcol. È nel personaggio. È nel personaggio se moriamo così. Vabbè, aspettiamo un attimo di avere un po' di soldi. Poi vedremo di fare qualcosa. C'è un nuovo evento di corte, tra l'altro. Perché onori ogni con una posizione a corte e non me? La nostra concubina Teodosia è furiosa. Possiamo dire, ah, fuori dai balli. Oppure la facciamo diventare capbearer. Quindi la porta coppe. Aumentiamo il grandeur. Ed è probabile che, come dire, che blocchi gli schemi di avvelenamento. Oppure la facciamo diventare giù l'area di corte. Ma è una presa per il culo. Andai, coppiera. Coppiera è un buon ruolo. Tra l'altro, una cosa che vi voglio far vedere, magari faccio andare il tempo un po' più piano, è che adesso abbiamo molti più ruoli all'interno della nostra corte. Questo qua non possiamo farlo andare via. Va bene. Allora, ci sono quelli comuni e quelli reali. Tra quelli reali c'è l'assaggiatore del cibo, il maestro della caccia, maestro, scusate, dei cavalli della caccia, l'architetto reale e... Si è creata una cultura... Ah, Iperno non rena. Io, per qualche motivo, Ipernia, ho pensato alla Spagna. Forse è una regione che si trova anche lì. Forse era proprio il nome... Sì, mi sa che il nome che davano i romani all'Irlanda, ha senso. Beh, buon per voi. Poi c'è l'architetto reale, naturalmente, l'almoniere, l'alto almoniere, che è Ceri Moniere, scusate, il poeta di corte, Slipner, cavallo entusiasta. E il ragazzo qua ci chiede di cavalcare Slipner. Potremmo guadagnare prestigio dicendogli no, oppure dire... Ma sì, divertiti. Diverti, se non ti ammazzo. Poi c'è il musico di corte. L'executioner, che banalmente è il giustiziere, il boy. Cort Artificer. Ah, figo. È quello che fa i fuochi d'artificio. Ah no, 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 scusate, l'artigiano. E se ne può prendere più di uno? Non ne abbiamo nessuno. Ah, probabilmente questi qua possono venire. Poi, tra quelli invece comuni, abbiamo perso la nostra Antiquarian, tra l'altro. E ne abbiamo qualcuno che potrebbe essere nella media. Banalmente Rodolf. Mi sembra che sia portato. Comunque è nella media. Così si può riforgiare, riparare gli artefatti. Possiamo commissionarli e li protegge durante gli assedi, dai. Ok. Poi ci sono le guardie del corpo, il tutore di corte, che ce ne servirebbe uno. Devo dire che la principessa qua è molto portata. Posso far diventare una Shield Maiden, magari? No, perché la Prawa West è sotto il 12. Questo è un vero peccato. Ah, è diventato tutore di corte. Cara figliola. Poi il Senescaio. Esatto, che è tipo un maresciallo, ragazzi. Il timer è scoccato, ma vi faccio vedere le ultime posizioni. Vabbè, il giullare di corte, naturalmente. La guardia del corpo. E una l'abbiamo già. Potremmo prendercene un'altra. Nostro figlio. Perché no? Anche se è un po' scarso, eh. Scarsone. Eh, lui sarà il nostro, il nostro steward. Banalmente è più portato per la gestione economica che peraltro. Tu vuoi incinta, per caso? No. Scusate, devo controllare un po' come va la Stilpe. Tra l'altro, sono scemo. Sono scemo, perché questi ragazzi qua... No, sono della casata Alexanderson. Ok. Ma qua, invece, non l'ho fatto. Vabbè, che è facile che non abbiano figli. Non ho fatto... Sì, no. Li avranno. Non ho fatto il matrimonio matrilineare qua. Eh, ho sbagliato. Ho sbagliato. Vabbè, prendiamoci il nostro figlio per una questione un po' di prestigio come guardia del corpo? No. Prima poi ritroveremo un altro e poi, vabbè, c'è il campione personale che potremo prendere il nostro Rix Godi, che è il nostro cappellano, diciamo, che è molto portato, ha 24 di prowess, quindi, assolutamente. Abbiamo più dread, più prestigio, quindi va bene così. E un po' di soldi si ne vanno nella corte. Io direi che arriviamo al 31 ottobre, così tanto per, dato che è la data del mio compleanno. E ci fermiamo per questo episodio. Siamo finalmente riusciti a creare il regno Sindel. Nel prossimo episodio vediamo se riusciremo a creare una cultura. No. Perché la nostra cultura, tra l'altro, non è presente in nessuna regione. Prima dobbiamo, quindi, convertire, a quanto pare. E questo me lo sono dimenticato. Promuovere cultura. Ok. In realtà ci vorrà più tempo di quello che pensavo. L'accettazione da sola non basta. Effettivamente serve una provincia che sia della stessa cultura. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Voi, nel frattempo, prima del prossimo episodio, continuate a commentarmi qua sotto se preferite l'idea di convertirci a una nuova religione per entrare più in tema. O se volete che manteniamo la Asadro. Io vi dico solo che non la possiamo riformare. Resterà sempre una regione non riformata che ci dà un malus con i vassalli. Ci dà più prestigio per l'amore del cielo ed è buona come religione. Ha ottimi tratti, mi piace molto. Però ha anche i suoi svantaggi. Quindi, fatemi sapere. Potrei decidere di cambiarlo poi nei prossimi video e vi ho già detto quale sarebbe l'eventuale sostituta. L'eventuale sostituta è questa religione qua. Quella Vaishnavita. Io, ragazzi, vi saluto. Spero che l'episodio vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate qua sotto quel mi piace. Condividete la campagna con amici. E mi raccomando, in attesa del prossimo episodio, guardate le altre campagne in corso e già pubblicate sul canale. A tutti i legionari e a presto. Grazie a tutti.